No 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 Gesù Questa non è una cazzo di... Buser, ci sei? Sì, dico Ehi, come andiamo? Il braccio? Come ho detto, mi riprenderò D'accordo Ho ancora intenzione di raggiungere il presidio della Nero Per recuperare vende, pomate, quello che... Sì, come vuoi Io esco, controllo che la montagna sia tranquilla Buser, no, no, hai ustioni di terzo grado Restami, riposami, ok? Io rientrerò appena possibile Sai, pensavo... Non so, potrebbe... Potrebbe esservi utile qualcosa contro il dolore Sì, 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 certo Magari vedo cosa riesco a trovare Sei già, non sono te Quando arrivi alla torre Il collegamento radio è stato interrotto Ti pagherò se non riattivi Questi tizi li conosci Perché sabotare Radio Free Oregon Sembra un attacco personale Ovvio che è personale Vivevano nel mio campo Ma erano contrari alle regole Che vietano di rubare, stuporare e uccidere Beh, magari sono come me Stanchi di ascoltare i tuoi deliri da complottista St. John, chiudo Stanchi di ascoltare i tuoi deliri da Questo è il presidio della Nero Devo trovare qualcosa di utile per il braccio di Buser L'abbia da te restano poche voluzioni il Non si apre. Niente da fare. Bingo, ho trovato. Niente da fare. Ah, merda, sono al secco. Niente da fare. 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 Avanti, stronzetto, mettiti in moto. Niente da fare. 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 Ok. 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 Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì.